Sì, una partita molto tattica in un campo difficile perché comunque ricordiamo che c'è un terreno dove noi non siamo abituati a giocare e abbiamo perso un po' di qualità. È stata comunque una bella partita perché i miei ragazzi ci sono stati dentro dal punto di vista fisico, dal punto di vista caratteriale e sapevo che il terreno sarebbe venuto ad aggredirci forte, ad aggredirci alto e ho messo in guardia i miei ragazzi che sarebbe stata una partita difficile sotto tanti punti di vista. Venire a fare punti qua non è semplice, probabilmente si recrimina qualcosa sulla traversa e su un altro paio di situazioni che potevamo sfruttare meglio, però è andata così, inutile parlare ora dell'episodio, delle volte sono a favore, delle volte sono contro, ci portiamo a casa il punto e ci proiettiamo già a un'altra partita difficile contro la San Benedettese. Il secondo tempo è vero, il primo tempo il terreno è venuto subito a prenderci alto, non ci concedeva di giocare come facciamo noi spesso dal basso, usando il mediano basso, insomma erano messi molto bene in campo e è diventata una partita un po' spezzettata, dove c'erano un po' queste palle alte da una parte e dall'altra, entrambe le squadre aggressive, però mi aspettavo che il terreno potesse calare un pochino questa pressione. E così è stato, siamo partiti subito forte e potevamo chiuderla, purtroppo non siamo stati né cinici né fortunati a farlo e la partita poi si è incanalata sullo 0-0, anche se ho provato ad inserire un'altra punta, passando al 3-4-3 volevo dare un segnale che non volevo accontentarmi del pareggio, però alla fine mi porto a casa con questo punto, in un campo che temevo, contro una squadra che temevo, anche perché non so se il terreno abbia mai perso in casa, ma non credo, viene da una striscia positiva molto lunga, quindi è una squadra che in casa dà fastidio veramente a tutti.